E questo è il compito che si è prefisso del PNRR e questo è il compito del DM77. Noi lo stiamo attuando in aderenza a tutto quanto previsto. Adesso partiranno la realizzazione di tutte le strutture che sono necessarie per l'attuazione del piano, sono le case di comunità, gli ospedali di comunità, le COT, con le loro rispettive funzioni di integrazione dell'attività ospedaliera. Stiamo pensando non solo a realizzazione di strutture in questa fase, che sono importanti perché alcune vanno realizzate ex novo, altre vanno ristrutturate e quindi ci sarà un impatto importante sull'assistenza del cittadino, ma soprattutto lo stiamo vedendo in una rete anche di essere pronti nel momento in cui dovranno entrare in funzione con l'assetto di personale necessario e con tutto quanto sarà necessario per far sì che non verranno realizzate delle scatole di voto ma sia delle strutture già operanti e noi appunto già da adesso ci stiamo preparando a questo. I progetti la maggior parte sono realizzati, devono essere completati solo qualche progetto che sono le case di comunità più importanti che devono essere costruite ex novo, Terra, Monero e Roseto, però le altre già sono importanti, già stanno per essere assegnati i lavori e questo ci avvantaggerà nei tempi perché i tempi devono essere rigorosamente rispettati e noi dobbiamo puntare a questo. È ovvio che si inserisce in un'ottica che tutto è stato predisposto in base a una visione sanitaria del territorio, qualunque sia l'ubicazione del nuovo ospedale è ovvio che loro avranno una funzione a sé, se dopo vi sarà un assetto diverso della rete ospedaliera, questo è rimettere in gioco tutto l'assetto sanitario e noi siamo pronti, ecco, lo abbiamo fatto in maniera tale di essere pronti a qualsiasi trasformazione per dare il meglio dell'assistenza a questo territorio.